Nel lab di San Giuseppe e l'Arena Catania, una parte del coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini è tornato ad esibirsi con grande disponibilità. Ha intrattenuto gli utenti stemperando l'ansia del prima e del dopo vaccino. Non mi sancherò mai di ringraziare i vertici del teatro, il commissario straordinario Daniela Locascio e il suo printendente Giovanni Cultrera per aver aderito a questa iniziativa in un momento complicato anche per il mondo della cultura e dell'arte piegato dalla pandemia e dalle misure restrittive. Dice così il commissario per l'emergenza Covid, Pino Liberti, e aggiunge vogliamo unire questi momenti di svago e leggerezza insieme a quello della vaccinazione, come l'apertura di una nuova stagione e un nuovo inizio carico di ottimismo. Ancora una volta la sala d'attesa si è trasformata in un palcoscenico dove è andata in scena la rappresentazione di ciò che ci stiamo lasciando alle spalle e di un futuro prossimo più sereno e luminoso. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS